Buon pomeriggio e benvenuti dal Paladir Seu di Eboli, diciottesima giornata Serie A Futsal. Si affrontano la Fel di Eboli, sesta in classifica e la Meta Catania, settima. Due squadre divise da un punto. Ci aspetta una partita scoppiettante. Buon pomeriggio da Carmine Fine. La Meta Catania in completa bianco da sinistra verso destra e si parte. Da farsi Salas e sceglie Musumeci. Calza una buona palla a favore Dalcin. Tunnel di Dalcinna. Bissoni. Sale anche la Meta Catania in pressing. Bella palla di Fornella. Ricerca di Romano. Ci mette la testa Salas ma arriva Bissoni. La suolata di Bissoni. Serve Romano! 1-0 Fel di Eboli. Sergio Romano. Dalcinna. La suolata di Cesaroni. Paralion. Due volte l'intervento di Lyon de Freitas. Adesso la palla fuori per Salas. Para ancora Lyon. Può ripartire il contropiede della Fel di Eboli con Tres. Tres la mette sul secondo palo per Fornari che prova una giocata clamorosa nel derby. Con due assist e un gol. Boaventura. Prova ad andarsene. Calcia Boaventura. Bella parata di Perez. Ancora Mancia. Recupera palla la Meta Catania. Dalcinna. Calcia. La parata di Lyon. Battistoni. Sposta la palla sul destro. Deviazione. Lyon riesce a parare. Perde palla Camagno. Sergio Romano allora. Scambia con Fornari. Palla dentro per Bagatini. Cosa ha sbagliato Bagatini? Ancora Meta in possesso. Pressione della Fel di Eboli altissima. La spizzata di Camagno per Dalcinna. Ha calciato anche bene col piede non suo. Ovvero il destro. Adesso palla dentro Battistoni. Quasi se la butta in porta. Salas. Prova a cambiare gioco. Ci mette il piede. Mancia. La palla finisce sulla traversa. Può ripartire il gioco. Con Cesaroni che va a calciare. Palla ribattuta. Proprio Spindola. Grande parata di Lyon. Poi Cesaroni. Recupera palla. La Fel di Eboli. Riparte con Fornari. Che calcia! Tiago Perez. Con Hernani sulla palla. Movimento di Dalcin sul secondo. Pallo riesce a chiudere Bissoni. Palla fuori. E la conclusione di Musumeci. Lyon si supera. Imposta Ercole. Sì. Che la tocca malissimo per Boaventura Dalcin. Non fa gol. Mancia. Bello il tacco per Bagatini. Due contro uno. Chiude. Salas in scivolata. Non c'è fallo. Va a calciare Salas. La palla è dall'altro lato. Musumeci palo. E poi Salas la mette dentro per l'1-1 della meta Catania. Si infure il pala di Ilseu. Ha pareggiato la meta dopo quattro minuti. Ancora Hernani. Isolato contro Sergio Romano. Calcia. Tressa a metterla dentro. Ribatte lo stesso Camagno. Palla fuori per Ercolessi. Marco Ercolessi. 2-1 fa il Dieboli. Tura rischia la perde. Musumeci per Dalcin. Non trovando la porta. Adesso Perez al rilancio per Musumeci. La palla gli arriva. Resta vagante. La cicca Battistoni. Ma non Dalcin. Che la pareggia. 2-2. Metta Catania. Con Sergio Romano sull'auto sinistro. Prova l'imbucata per Bagatini. Chiude Hernani. Ercolessi con la punta. Tressa. Palla per Fornari. Hernani su di lui. Ci prova Romano la deviazione. Fuori. Torna Tressa. Evitando il peggio. Dalcin per Salas. Ma è finita qui. 2-2. Il risultato finale. Tra Feldieboli. E Metta Catania. E Metta Catania. Grazie a tutti